Buonasera a tutti, invito tutti a prendere posto. Per alcuni è un continuo, nel senso che sono qua dall'inaugurazione delle due mostre. Qualcuno è arrivato solo nella serata. Saluto e ringrazio di nuovo il nostro ospite Marco Aime. Per i ritardatari do la parola alla direttrice della biblioteca Enrica Meregalli, che vi ricorda dove siamo, cosa sono queste due mostre, cosa siamo qui a fare. Ci fa un riassuntino, insomma, della situazione. Prego. Veramente dice il proverbio, sappiamo solo da dove veniamo, ma non dove andiamo, giusto? Quindi, vabbè, per il momento siete qui. Benvenuti a tutti, buonasera, bentrovati. Insomma, per chi è rimasto dal pomeriggio, penso che sia stato un momento di condivisione molto piacevole. Vi ringrazio, ecco, di questo. I bambini prendono posto in prima posizione, benissimo. E ci danno un po' il segnale della serata. Adesso vediamo cosa succede. E quanto resistono. Abbiamo proprio voluto approfittare della presenza di Marco Aime qui con noi oggi, sia per, appunto, la mostra, che è allestita in galleria esposizioni, la mostra Afriche. Cominciamo con l'emozione. Il soffio degli antenati, no? Questa bellissima mostra fotografica di foto che l'antropologo Marco Aime ha scattato durante 20-30 anni dei suoi viaggi, sapientemente abbinati a un proverbio invece delle tradizioni dei paesi africani. Per chi non l'ha ancora vista, è una mostra molto parlante che va dritta al cuore, che ci fa sentire anche tutti, come dire, veramente parti di una stessa avventura. Perché per quanto siano scatti e proverbi magari di altre culture, in realtà ci parlano e ci agganciano. Questa mostra viene dal Palazzo Ducale di Genova e ci fa molto onore poterla ospitare e poter avere il professor Aime qui con noi a presentarla. Invece in sala conferenza è qui sulle pareti allestita quest'altra mostra di illustrazioni di Sarmede, che vengono dalla scuola di illustrazioni di Sarmede, che i brugheresi sanno bene che è una fondazione a cui siamo molto affezionati. Ogni anno, da 12 anni a questa parte, ospitiamo la sezione delle immagini della fantasia, che è una mostra di illustrazioni per l'infanzia. Ogni anno con un tema diverso, in particolare con l'immaginario fiabesco di un popolo diverso, per cui sono 12 anni che facciamo il giro del mondo, quindi anche noi abbiamo un po' raccontato ad Aime il nostro girovagare. Nell'immaginario degli altri, ecco che è una cosa che, come si diceva prima, anche i proverbi sono, quelli selezionati probabilmente in qualche modo si avvicinano alla nostra cultura, ma spesso i proverbi e l'immaginario degli altri popoli sono anche un po' difficili da cogliere e da assimilare, da tradurre nel nostro immaginario. Per cui questa esperienza fatta con Sarmede ci ha fatto molto apprezzare questa collezione particolare dedicata appunto all'attraversamento del Mediterraneo, quindi una situazione molto drammatica, i migranti si trovano a vivere oggi, purtroppo a noi molto familiare comunque come immagine, ma appunto presentata con la scelta delle illustrazioni, che ancorché non hanno la violenza, l'aggressività di tante immagini che noi vediamo in televisione e alle quali ci siamo drammaticamente abituati, per cui non le vediamo più, qui c'è una potenza espressiva fortissima, sia nel collezionare la valigia dei ricordi, sia nelle terribili tavole di Mediterraneo, che sono proprio le tavole più toccanti del naufragio, sia in quella bellissima tavola in cui c'è il naufragio che esce dalla televisione, che ci deve far riflettere su quanto ci siamo abituati a quelle immagini. Fatta con la tecnica di un'inistrazione cambia completamente l'impatto. Per cui l'idea nell'ambito di questo Festival delle Culture 2018 era di offrire per queste tre settimane due mostre che potessero appunto condurvi, accompagnarvi in una riflessione così appunto di attenzione soprattutto, nel dedicare un po' di attenzione a questo fenomeno sempre molto tragico, che può avere appunto in qualche modo il nostro pensiero e il nostro accompagnamento. E allora, come dire, questa sera poi veniva facile anche, poiché per l'occasione il professor Haimer ha scritto un libro, proprio sapendo che doveva venire a Brugherio nel mese di maggio, dice aspetta mo', ha pubblicato questo libro appunto, L'isola del non arrivo, Voci da Lampedusa, che è un libro che appunto ci racconta di una, adesso lo faremo ovviamente raccontare a lui, ci racconta di questa ricerca che l'antropologo ha voluto condurre in terra di Lampedusa, in acqua di Lampedusa, e mi fermo insomma, perché sicuramente era un'occasione troppo preziosa per noi incrociare tutti questi stimoli e radunarli qui stasera e condividerli con voi. Sì, grazie, grazie Enrica. Facciamo qualche domanda, anche se non c'è nessun bisogno, ma giusto per movimentare un po' la serata. La prima domanda con cui introdurci io la porrei sulla scelta del titolo. Io credo, io non ho mai scritto un libro, però credo che la cosa più difficile sia scegliere il titolo, a meno che non lo scelga qualcun altro, insomma. L'isola del non arrivo, perché questo titolo? Buonasera a tutti, grazie per quelli che non c'erano prima, quelli che c'erano prima, grazie per essere rimasti. Allora, premesso che in genere, confesso, è uno dei primi titoli che mi approvano, me li bocciano tutti, ma quelli altri erano sempre meglio di quelli che ho fatto. Io credo che stavolta ci ho azzeccato. Ma l'isola del non arrivo perché Lampedusa è di fatto diventata negli ultimi anni più di uno, una serie di immagini e nessuna coincide con la realtà. E' un arrivo che non è arrivo, nel senso che per molti è, dopo la traversata in mare, rappresentata anche appunto in queste tavole, come si diceva prima, diceva prima Enrico, è la fine del viaggio ed è terra. Ma, rendersi conto, Lampedusa è un'isola lunga, sei chilometri e larga, due. E' un'unghia, una briciola nel Mediterraneo. E Lampedusa però, per certi versi, da un lato è dimenticata. Io ho messo fin dall'inizio le parole del parroco, Don Carmelo, che mi ha detto Lampedusa non è nemmeno sulle carte del meteo. Ed è vero, perché se voi guardate la carte del meteo non si vede. Perché Lampedusa è a sud di Tunisi di un bel po'. Di Lampedusa quasi non si sapeva che esistesse fino a quando, nell'87, che Dafi sparò due fantomatici missili, su cui i lampedusani hanno grossi dubbi. Ancora adesso che si erano davvero stati sparati. Ma sta di fatto che, se non altro, si è cominciato. Perché sì, esisteva, nonostante fosse citata già da Riosto, ma è un posto dimenticato, per certi versi. E oggi è diventato quasi la frontiera dell'Europa, dell'Occidente. Ecco, quindi su Lampedusa è stata fatta una costruzione mediatica, per cui tu a Lampedusa, tocchi terra, sei in Europa, di fatto. Da lì all'Europa più vicina, che è la Sicilia, ti mancano ancora 300 passi a chilometri. Ed è un posto dove non puoi uscirne un'isoletta piccolissima, molto più piccola di quanto si possa immaginare. Però, ecco, su Lampedusa è stato fatto un carico di immaginari impressionanti. Ed è stato un po' questo che mi ha anche spinto. Perché intanto è un arrivo, non arrivo. Sono arrivato, ma sono arrivato dove? Faccio un salto ad esso, adesso negli ultimi, proprio negli ultimi mesi, è cambiato anche il modello di immigrazione, poi nel percorso. Arrivano a volte piccoli gruppi, 6-7 persone, a cui tunisini, per un accordo tra il governo italiano e la Tunisia, l'Italia non concede diritto d'asilo ai tunisini, viene commissionato il foglio di via a Lampedusa. E da Lampedusa, però, se hai il foglio di via, non puoi neanche prendere l'aereo per andare a Palermo. Quindi, cioè, di fatto tu finisci lì, a Lampedusa, e non vai più via di lì. Quindi, ecco, è un arrivo che non è ancora un arrivo, per questo che era un po'... E noi dicevo appunto che l'idea di andare a Lampedusa è nata, ma da una riflessione abbastanza... C'è una domanda abbastanza banale. Vedendo, sentendo sui medi e così, mi sono sempre chiesto, perché qua al nord rompiamo le scatole, urliamo, sbraitiamo, quando arrivano risbarchi stranieri... E a Lampedusa non si è mai lamentato nessuno? Allora, o uno pensa che geneticamente gli ampedusani sono diversi, ma Barbugliani poi mi fa un mazzo così, perché voglio dire dopo anni che facciamo insieme le cose contro le diverse agenese... Oppure ci deve essere qualcosa. Devo dire che poi uno, andando un po' più indietro nel tempo, se ci pensa, quando i primi arrivi di stranieri in Italia erano quelli che arrivavano dall'Albania in Puglia, era venuta la stessa identica cosa. Cioè, chi non si lamentava erano i pugliesi. E si lamentavano tutti gli altri. Allora, l'unica cosa è andiamo a vedere, andiamo a parlare. Quindi sono andato giù più volte cercando di capire, di farmi raccontare dai lampedusani come loro vedevano questo fenomeno. E ovviamente non si può dire che ci sia un'idea comune, condivisa, non sono tutti così, perché dall'altra parte poi è stato anche costruito un po' il mito del lampedusano buono. E anche questo non è veritiero, è un'altra proiezione dell'immaginario. Ecco, da un lato Lampedusa diventa frontiera, ci si arrivano tutti, le autorità, i VIP, tutti che fanno a gara a farsi vedere Lampedusa, a fare i buoni, i generosi, e poi tutti se ne vanno, i lampedusani però rimangono lì tutto l'anno. E devo dire che la risposta alla domanda si poteva avere anche in dieci minuti, a capitare nel momento giusto. Nel senso che basta, sono riuscito le prime volte a arrivare e riuscire ad andare al molo fa valore, o molo fa valore a Lampedusa, è il molo a cui attaccano tutte le navi che vanno a recuperare i migranti. Tenete conto che ormai dal 2013 quasi non ci sono più arrivi a Lampedusa diretti. Quasi tutte le barche vengono intercettate dalla Marina e dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che vanno a recuperarli. Ecco, e apro una parentesi, che fanno un lavoro stupendo questi rievi, perché veramente fanno anche dei grossi sacrifici per farlo. Però, ecco, quando attacca a riuscire, perché non è che non è accesso a tutti, arrivare di notte a vedere questi arrivi, e lo capisce subito. un conto è vedere la stessa cosa attraverso la televisione che anestetizza tutto. La notizia che viene data come un numero, poi guardiamo anche la terminologia, un altro sbarco. Sbarco ti fa venire in mente il barco in Normandia, lo sbarco ad Anzio, cioè sbarca al nemico, uno normale attracca, arriva, non sbarca. Cioè già lo sbarco ti dà l'idea di un'aggressione. Poi uno dice 600 persone, l'invasione. Poi vai là e li vedi in faccia, vedi gente infreddolita, provata, e saltano tutta una serie di luoghi comuni, sentiti qui. si sente sempre dire che sono delle mamme con dei ragazzi con dei bambini piccoli, che è incoscienti mettersi in viaggio così con dei bambini. Quei bambini sono tutti frutti di stupri subiti in Libia. Nessuna donna parte incinta dall'Africa e che poi purtroppo li hanno e se li tengono e quindi sopportano questi viaggi. E allora qual è la cosa che cambia? è l'empatia. Se tu vedi quelle persone non sono più migranti, non sono una statistica, non sono estracomuntari, è qualcuno che ha freddo e affammo. E i lapelusani, che sono gente di mare, ecco non dimentichiamo questo, in qualche modo li hanno sempre aiutati, anche nelle condizioni peggiori, che al peggiore condizione è stato il 2011. Il 2011 c'è stato, ricordate le primavere arabe, un sacco di giovani tunisini sono arrivati. A un certo punto si è arrivati che sull'isola la popolazione di Ampedusa è 5500 abitanti e c'erano dai 10 ai 12 mila tunisi. Immaginate quindi il doppio della popolazione in un'isoletta così. C'erano perché l'allora governo non ha voluto portarli via sperando che scoppiassero scontro proprio per giustificare certe cose. La gente si è messa, faceva per strada pasta asciutta, couscous, cosa, e nessuno è stato lasciato senza cibo, gente invitata a fare la doccia a casa, in qualche modo hanno sopportato. E allora ecco, la domanda è proprio anche questa, è che forse un'altra, non solo è il vedere in faccia l'altro, che non è più così altro se lo vedi. E' anche un po' la vita sul mare. Io ho intervistato parecchi pescatori, i pescatori sono quelli direttamente più colpiti, perché spesso escono, ci sono tutta una serie di problemi diretti e indiretti, diciamo, siamo quelli indiretti, per esempio, i pescatori perdono un sacco di reti che si impigliano nelle barche, nelle navi incagliate sul fondo. E questo è un danno per loro. Ma esci e se tu incroci un barcone, cosa fai? Esiste quella che è creata la legge del mare, Cioè tu dai su cosa, ma anche senza legge, e qui scatta tutto anche delle cose parossistiche. Loro non possono far salire gente a bordo, è successo le prime volte, poi arrivano e si beccano la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione. È la stessa cosa che è successa recentemente, adesso succede a Bardonecchi, alla Claviera, al Monginevo, di quella guida francese che ha trasportato una donna incinta e si becchia e rischia cinque anni di prigione. Però non li abbandonano, allora accosti la nave, poi vedremo anche questo, e segnali alla capitaneria. Questo però vuol dire anche perdere una giornata di lavoro. Sono soldi, loro vivono di quello, però nessuno si lamenta di questo. Anche perché c'è una percezione, cioè chi vive in mare, chi vive sul mare, vive in una situazione che non è normale. Non siamo fatti per stare sull'acqua noi, come non siamo fatti per stare su un aereo. Vivere nel mare è una situazione di continuo pericolo e tutti hanno la coscienza esatta del fatto che prima o poi potrebbe toccare a te di aver bisogno di qualcuno e qualcuno speri ci sia. Quindi si aiuta, si aspetta che arrivi la capitaneria, nel frattempo danno pane, acqua, cercando, se c'è qualcuno che sta male e poi si fa salire a bordo lo stesso. Ci sono anche storie un po' bufe perché a volte loro segnalano alla capitaneria le coordinate, oggi col GPS è facile, qualche volta, forse più di qualche volta sono oltre la linea delle acque del permesso di pesca per cui si beccano la multa perché non dovrebbero pescare lì, quindi ci sono però ecco, sta di fatto che i pescatori sono stati quelli che più in prima linea hanno vissuto quello e devo dire che appunto nessuno ne parla con asti o con rabbia di questo, cioè fa parte e devo dire a me ha colpito molto una delle frasi che mi ha detto un pescatore che mi ha raccontato dei numerosi salvataggi e poi è stato molto onesto, mi ha detto guardi, a me sulla terraferma non è che siano simpatici, però io in mare li salvo e devo dire che è stato molto onesto dice non lo faccio che sono no, però io lì ho un dovere ecco, teniamo anche conto che forse Lampedusa ha anche una cultura isolana di un'isola che è un po' particolare non so quanto c'entri la storia antica perché la comunità di Lampedusa è recente quelli di Lampedusa adesso sono lì i primi dal 1843 poi era stato disabito però anticamente era un portofranco chiunque qualunque nave a Lampedusa potaccarsi per fare acqua o legna anche se vicino c'era la nave nemica nessuno si toccava era un posto anche perché se guardate dov'è è un posto proprio strategico è necessario tant'è vero che quest'isola è poi rimasta per anni della famiglia Tomasi di Lampedusa il famoso autore del Gattopardo i quali certamente non sapevano cosa fare poi immaginiamoci stiamo parlando del Settecento con quelle navi di allora arrivare a Lampedusa ai voglia oggi è tutto l'ha venduta chi lo voleva comprare gli inglesi gli inglesi che avevano preso Malta avevano capito che Lampedusa è un altro punto strategico però poi siamo già nell'Ottocento Ferdinando di Borbone annusa la cosa e gli dice no no la compro io la compra lui e spedisce 122 siciliani di varie parti dicendo guarda vi regaliamo terra fate quel che volete fuori questi poi sono rimasti praticamente isolati quasi dalla Sicilia perché adesso è facile ce l'era e quindi i pedusani di oggi sono discendenti di questa ma la cultura del mare è sicuramente importante però quello che più emerge dalle parole dei Lampedusani poi magari racconteremo anche qualche anello è non ho mai sentito una parola contro i migranti diciamo che non dico l'odio ma l'astio l'antipatia è contro i media perché dipingono l'isola cioè la signora che è un bed and breakfast mi diceva qui mi continua a telefare gente ma è pericoloso io ho due bambini piccoli posso venire perché uno devo dire ci sono cascato anch'io uno si immagina che Lampedusa va là e la trova invasa di stranieri se usciamo Brugherio ne vediamo il triplo cioè non ce n'è uno non ne vedi uno Lampedusa perché sono tutti chiusi dentro adesso hanno chiuso anche lo spot perché non c'era più ma erano tutti chiusi dentro quindi c'è una realtà che tutti hanno usato come palcoscenico quando è andato Schulz per l'Unione Europea è stato subissato di fischi anche la Boldrini e vari altri l'unico che non se ne è preso è stato Papa Francesco però perché è stato costruito uno spettacolo della frontiera proprio a Lampedusa con questo sovraccarico di telecamere a un certo punto ogni sera ci facevano vedere Lampedusa adesso è un po' finito e quindi è un po' cambiato però ecco questo sovraccarico ha finito per mettere sulle spalle delle persone un carico troppo grosso quando la questione per i Lampedusani non era così grande anche un altro motivo del non arrivo è perché tutti i Lampedusani quelli più che si impegnano di più e non è che tutti poi saranno molti però quelli che si impegnano dalle varie organizzazioni e su questo ti dicono attenzione noi non accogliamo nessuno perché poi vanno via di qui cioè noi li salviamo e basta che non è poco però ecco quindi c'è anche una percezione che questo devo dire forse si estende un po' forse alla Sicilia di molti di essere già un miscuglio cioè l'idea che molti siciliani hanno di se stessi qui sono passati insomma arabi saraceni normanni quindi il fatto che la gente arrivi e vada chiudo perché ricordo a Favara vicino al Grigento c'è un paesino una parte vecchia dove è stato un po' allestito un museo di arte contemporanea c'è un cartello che non è un'opera d'arte però bellissimo c'è un elenco di popolazioni da unnigoti visigoti vermani queste cose saraceni e poi c'era scritto certo che anche senza ponte ne sono arrivati di rompicoglioni e devo dire era bellissima questa cosa qui è passato di tutto non c'era visore del forte ecco c'è molto questa percezione anche della della complessità della diversità e e quindi ecco devo dire che cioè i lampedusati quando glielo dici ti dice ma in fondo noi cosa facciamo cioè gli diamo un piatto di pasta c'è anche gente che non lo fa ecco e loro lo fanno e questo è già qualcosa prima di continuare a vedere un po' le scoperte fatte beh poi il libro lo leggete anche in vendita io vorrei perché io penso che voi tutti sappiate cosa fa un antropologo vero io però quando iscrivo una persona alla biblioteca tra le varie professioni per cui scegliere antropologo non c'è c'è agricoltore ma non c'è antropologo è più utile esatto quindi io confesso la mia ignoranza e quindi ti chiedo ma cosa fa un antropologo cioè questa ricerca di cosa è fatta tu dici ho sentito questo ho intervistato ma concretamente se ci racconti perché cosa fa un antropologo potrei rispondere con le frasi di Clifford Gers uno dei più grandi antropologi del novecento tormenta gente intelligente con domande stupide e questa è la definizione migliore che si può fare di un antropologo allora diciamo che oggi l'antropologia è anche molto cambiata cioè una volta l'antropologo andava tra i primitivi come si diceva una volta i selvaggi oggi si fa ricerca nelle città sui social network altre cose diciamo che la cosa fondamentale è uno che cosa si cerca di capire si cerca di capire qualcosa di più del funzionamento di questi strani animali che siamo noi umani cioè abbiamo dei modelli delle cose a cui rispondiamo oppure ci sono delle cose che accomunano tutto il genere umano oppure ci sono delle cose che invece sono specifiche sono intraducibili non a caso una delle ossessioni degli antropologi era sempre stato gli studi di parentela quando facevo l'università Torino circolava una battuta che diceva che i filosofi si occupano di Dio gli psicologi dell'Io e gli antropologi dello zio perché la parentela è una di quelle cose se vuoi chi ha dato un esame di antropologia lo sa perché la cosa più noiosa è il capitolo sulla parentela mi annoio a spiegarlo io figurati a quelli che l'ascoltano i miei studenti è una di quelle cose che in natura non c'è perché nessun gatto ha mai avuto un cognato o un cugino quindi non esiste ma di fatto non c'è società che non abbia costruito la parentela quindi la parentela ci serve è la prima forma di organizzazione politica sociale dell'umanità ma tutti l'abbiamo fatta in modo diverso allora ecco perché gli studi di parentela perché confrontando i modelli di parentela si possono vedere dei gruppi delle modalità delle strutture diverse e quindi insomma si va un po' a cercare quello e quello che in fondo si vuole cercare è vedere come un gruppo che sia un'etnia o che sia un gruppo su un social network o i Lampedusani o prima ho fatto una ricerca sul movimento Notavro in Val di Susa per dire come un'altra comunità qualunque esso sia in che modo vede il mondo cioè è questo poi di fatto quella cultura cos'è è un tentativo di mettere un certo ordine al mondo e l'unico modo per capirlo appunto è andarci e parlare con la gente sfinirli cioè l'antropologo vive della pazienza di sopportazione degli altri e ovviamente ci sono differenze tra fare ricerca qui e farla in Africa però di fatto vivi sempre ecco di questo quindi ascoltare e partendo anche dal presupposto che quando tu parli con le persone intanto perché devi stare tanto e fare tante interviste perché il punto di vista di uno non è il punto di vista di tutti i punti istituti non c'è se però venti persone mi dicono più o meno che è così posso considerarlo a buon diritto che è un dato è una tendenza poi nessuna comunità è omogenea però possiamo dire che più o meno lì ci siamo però anche tenendo conto che quando tu parli con qualcuno non è che non perché quel qualcuno è bugiardo ma non è che ti dice le cose come stanno ti dice come lui le interpretate quindi tu in realtà devi poi interpretare delle interpretazioni ma questo proprio perché cioè è nella attualità teniamo conto che adesso qui è un caso diverso Lampedusa perché è un caso di attualità ma se uno va a fare i cerchi in altri posti immaginate che venga uno da voi cioè è il peggiore ospite che potete avere sta tanto e fa domande e vi chiede delle cose ora non è che la gente io non so qui a Brugherio io non è che al mattino tutte le volte mi alzo e dico sono di cultura occidentale che deriva dal pensiero filosofo cioè faccio colazione quindi arriva uno e comincia a chiederti ma perché qui ma perché là ma perché e quindi ti obbliga a riflettere su te stesso per quello che poi finisce che gli antropologi selezioni in un gruppo di persone che sono quelle che hanno voglia o hanno fatto una riflessione cioè voi immaginate io penso se noi prezziamo per strada e chiedessimo quanta gente adesso è un momento scelto un esempio peggiore in questo momento facciamo finta che non siamo adesso ma come funziona il governo italiano ci ho pensato dopo ormai quando funzionava c'era almeno ecco quanta gente sarebbe capace di descrivere davvero come funziona no cioè è difficile perché non lo sa proprio non ci ha mai pensato che noi leggiamo un parlamento che a volte esprime una maggioranza che poi il ruolo del presidente non è che tutti lo sanno ecco quindi anche qua bisogna poi selezionare e poi ognuno magari ti dà l'interpretazione e quindi poi si lavora a interpretare delle interpretazioni e a narrarle quindi ecco lì qui a Lampedusa diciamo che vabbè da un lato ti semplifica il fatto della lingua del fatto che parli con persone in cui è più facile dialogare e dall'altro è chiaro che poi le pieghe sono anche più sottili perché allora entri anche poi in meccanismi capire che anche in una piccola comunità ci sono varie varie anime varie posizioni ho assistito anche alcune riunioni di associazioni dove c'erano anche degli scontri sulle varie posizioni sulle politiche e molto poi anche dipende dal ruolo che uno ha perché per esempio un conto è chi lo fa per volontariato chi è lampedusano chi è da fuori viene a Lampedusa oppure una persona che ho parlato più volte da lungo per esempio è stato il dottor Bartolo Pietro Bartolo che forse avrete visto nel film Fuoco a mare voi immaginate quest'uomo che è una bella persona cioè che faceva il medico su un'isoletta così più o meno tranquilla voi pensate che nessuno è mai nato a Lampedusa cioè negli ultimi perché non c'è la maternità per cui nessuno che era abitante in Lampedusa è nato a Lampedusa e c'è anche un paradosso siccome le donne negli ultimi tre mesi di gravidanza per regolamento non possono salire su un aereo molte giovani partorienti devono stabilirsi da parenti in Sicilia negli ultimi mesi per andare poi a far nascere i figli quindi è una situazione vivere a Lampedusa è una cosa un po' strana e quindi anche gli isolani si sentono per certi versi un po' un mondo a sé italiani ma mica troppo e questo medico che faceva un'attività di routine di ambulatoriale giusto dire cosa si è trovato in mezzo a questo turbine incredibile a sopportare un carico lui stesso mi diceva dovendosi fare un'esperienza perché malattie che non conosceva addirittura mi ha raccontato questa cosa delle ustioni provocate che trovava questi segni di ustioni sulla pelle non c'era poi viste da questo miscuglio tra acqua salata e nafta creano ma lui ha detto che ha cominciato su internet a scrivere tutte le cose a tutto il mondo che gli sono arrivate senza quindi ecco questa cosa ha cambiato ci sono anche persone per cui è cambiata totalmente la vita si sono dedicate talmente all'aiuto che quasi hanno paura di quando finirà tutto questo perché si sono creati una nuova identità costruite una loro visione di se stessi in funzione di questo e quindi ecco alla fine bisogna un po' cercare di interpretare qual è un po' il senso e sull'ampedusa si arriva che sicuramente pur essendo piccolo è una comunità composita anche articolata che però sul fronte del concreto ha trovato un elemento comune cioè parlando anche col parco diceva magari c'è difficoltà a elaborare un concetto però se c'è da salvare o da mangiare a qualcuno qui nessuno si è mai tirato indietro e questo è devo dire è stata una bella esperienza infatti ho concluso che quel libro prendendo una frase di Brecht perché molti parlano dei lampedusani eroici che c'è una frase di Brecht che dice sventurata la terra che ha bisogno di eroi e penso che forse non ci sono eroi lampeduse ma ci sono tante brave persone e non è una brutta cosa ma quindi a lampedusa diciamo vale più la politica o vale più il volontariato o è proprio il volontariato che è un vero atto politico allora se parliamo di politica politica in senso istituzionale ha contato fino a un certo punto nel senso che la la politica locale ha potuto fare poco i sindaci di lampedusa che sono suggeriti non potevano neanche entrare nello spot perché è del ministero dell'interno quindi non aveva accesso quindi di certo la ex sindaca che poi curiosamente ha avuto più fama fuori che dentro che non è stata rieletta però aveva creato comunque all'inizio del suo mandato una sensibilità cioè appoggiava tutte le iniziative dei lampedusani ma le iniziative sono partite dal basso diverso invece è stato il ruolo della politica internazionale ecco perché di colpo Lampedusa si è trovata a essere il centro quasi dell'Europa tutti che tutto a Lampedusa l'Europa che non non sapevamo quasi noi italiani dove era il Lampedusa figurati uno non so dell'Ungheria ma si sono trovati al mezzo per cui con una sorta di parata di europarlamentari che venivano tutti a fare anche un po' loro cosa di protagonismo questo dava molto fastidio alla gente anche perché poi qui come sempre ci sono queste messe in scena per cui io ho visto era arrivata una legazione di sei europarlamentari della sinistra radicale erano sei che non sapevano assolutamente nulla in compenso il giorno prima dell'arrivo l'hotspot che allora si chiamava CIE centro di identificazione e espulsione poi l'hanno chiamato spot è stato quasi svuotato del tutto quel giorno lì tutti avevano la tuta da ginnastica le scarpe della nai sembrava la nazionale olimpica non era degli immigrati non si era mangiato benissimo quelle sceneggiate che dici chiaro che se tu glielo dici due mesi prima che arrivi questi mica te lo fanno trovare sovraffollato quindi c'è stata la politica europea ha con tutto possiamo dirci criticare darci tutte le colpe a noi italiani però la politica d'europa ha scaricato tu sull'italia il problema poi con il trattato di dublino il fatto che dove tu devi rimanere nel paese dove viene identificato beh è chiaro che arrivi in italia dove vuoi arrivare qui o in grecia se arrivi dall'altra parte sono proprio quei due lì più poveracci quindi questo è già tenendo conto che quasi nessuno di chi arriva lì vorrebbe stare in italia perché tutti vorrebbero andare al nord d'europa perché lo sanno che qui non ci sono grandi possibilità per cui c'è stato dalla parte dell'Europa da parte anche qua dei governi italiani a seconda anche delle tendenze ci sono state delle diverse delle diverse politiche dicevo ecco il 2011 si è cercato di far deflagrare la situazione perché succedesse qualcosa che legittimasse tutta una serie di operazioni e non è successo perché i lampiedi d'usani non hanno reagito hanno incassato anzi hanno reagito positivamente oggi ancora tutti se lo ricordano come il peggior periodo che hanno vissuto tutti ricordano separati ci sono alcune date che non ce neanche bisogna 2011 ai tunisini quindi l'hanno vissuta e lo ricordano anche come un periodo difficilissimo duro ma tenete conto che quando dico duro non è solo duro dal punto di vista morale su un'isola piccola dove tutti i rifornimenti arrivano da Sicilia se voi triplicate la popolazione manca l'acqua manca la carne manca da mangiare perché non ce n'è più per 15.000 se non ti prepari quindi devi attrezzarti e lì è stata fatta un'operazione così poi c'è stata invece l'operazione Mare Nostrum che devo dire è stata è stata incumia perché lì ecco forse se bisogna dare un Nobel alla pace credo che la Guardia Costiera e Finanza di Lampedusa ma della Sicilia tutta se lo meriterebbe perché fanno veramente un lavoro incredibile tenete conto che quasi tutti quelli che partono da Libia in genere vengono imbarcati con un telefono satellitare su cui hanno già i numeri di cellulare telefono di Guardia Costiera Lampedusa Sicilia Malta Malta tendenzialmente se ne frega lascia non interviene quasi mai gli italiani intervengono sempre e quindi partono c'è un via vai di questi mezzi di recupero giorno e notte ecco io ho avuto l'occasione perché sapete è difficilissimo non puoi intervistare un militare perché dovresti chiedere il permesso per cui ho avuto delle conversazioni informali però in effetti a parte gli insulti ai maltesi che si moltiva però quando è ora siamo qui per questo e quindi ormai la maggior parte si può dire che dal 2013 non arriva nessuno a Lampedusa tutti li vengono intercettati nella maggior parte dei casi qui c'è un altro luogo comune da sfatare quello dello scafista l'immagine dello scafista era nata con l'immigrazione dell'Albania ma l'Albania in due ore arrivi in Puglia scarichi e torni a casa qui immaginate lo scafista dove torna se neanche la barca arriva lo scafista non c'è lo scafista è uno della barca a cui vi ho detto c'è qualcuno che sa guidare una barca nessuno ma quello più furbo però dice lo so io e gli fanno pagare metà o anche meno il viaggio lui non sa guidare la barca gli danno una bussola e questo e poi succede questo molti casi non partono nemmeno coi barconi partono su grossi navi fino al confine delle acque territoriali e poi vengono sbattuti sui barconi e se ne vanno quindi indietro c'è un racket incredibile e anche questo è un luogo comunque da sfatare quello dello scafista lo scafista non c'è perché se no rischierebbe come gli altri e sarebbe lì finirebbe insieme agli altri ecco quindi con l'operazione Mare Nostrum poi dopo l'operazione Mare Nostrum l'Europa ha sostituito questa con Triton o Triton secondo me che tutta l'Europa è riuscita a mettere meno fondi di quello che riusciva a mettere l'Italia e questo la dice lunga sull'Urcosa che ha continuato con minori risorse a effettuare questi salvataggi e poi c'è stato un cambio di rotta politico dell'Italia perché l'Italia aveva anche fatto questa operazione diciamo con l'Europa a dire noi facciamo carico ce li salviamo tutti però voi ci fate un po' di sconti su queste cose cioè questo è al pato non l'Italia non ha ottenuto quello che voleva e allora ecco che è cambiato l'atteggiamento dell'Italia ministro Minniti legge dura di colpo se avete notato le navi dell'ONG che hanno sempre operato sono diventate cattive cioè prima finché operavano in sintonia con la linea politica del salvataggio andavano bene anzi davano una mano se ne andavano di colpo invece se si è scelta questa linea che è la linea europea purtroppo che è quella dell'esternalizzare le frontiere cioè noi abbiamo delegato il lavoro sporco agli altri ai turchi di Erdogan e qui ai libici due paesi notoriamente democratici come la Turchia e la Libia praticamente noi l'Europa noi paga perché questi ci tolgano il problema non è come ricordo quello del film di Tarantino Paul Fission quello mi chiamo Wolf risolvo problemi ecco cioè noi stiamo pagando qualcuno che risolva questo problema il come facciamo finta di non vederlo peraltro erano già stati fatti accordi precedenti con la Libia di Gheddafi quando veniva detto che i libici dovevano riaccompagnare al confine quelli che tentavano di venire facendo finta di non sapere dove è il confine della Libia cioè nel mezzo del Sahara i libici molto ligi li accompagnavano nel mezzo del Sahara adesso posso dire che l'ultimo altro stato a febbraio e proprio il dottor Bartolo mi ha detto sì sono diminuiti gli arrivi ma quelli che arrivano hanno evidenti segni di torture e maltrattamenti mi ha fatto vedere anche delle foto che facevano abrividire che noi non vediamo perché nessun media ce le trasmette però ecco così funziona anche l'informazione e la politica quindi questo problema di esternalizzare praticamente oggi l'Europa finisce in Libia finisce in Libia finisce in Turchia anzi al confine curdo e non finisce più a Lampedusa ecco finisce laggiù abbiamo esternalizzato la frontiera europea dicevi delle date 2011 i tunisini e 3 ottobre 2013 3 ottobre basta dire 3 ottobre Lampedusa 3 ottobre 2016 è stata forse la tragedia più grossa perché all'alba è ancora buio quindi prima dell'alba scusate a 700 metri dalla riva 6-700 metri dalla riva un barcone nella spiaggia della Tabaccara un barcone carico con sono stati 400 perché i morti sono stati 360 questo barcone vede da lontano un peschereccio forse una luce uno di questi per segnalarlo accende uno straccio per fare una torcia questo straccio cade sul fondo del barcone naturalmente c'era qualche impasto un po' di nafta la carburante prende un po' fuoco la gente si sposta distinto su un lato e la barca si capovolce ecco qui io appunto ho parlato con Costantino che è una delle persone che il mattino vi dico quello che mi ha raccontato lui con un amico esce per andare a pesca all'alba vede tutte queste barche di pescatori appena un amico si è accorto ha chiamato tutti i pescatori sono rientrati che stavano uscendo in mare sono rientrati per salvare vanno lì con sta barca e vedono gente in mare qualcuno i carabinieri tutte le barche che c'erano a saltare loro con la barchetta riescono a salvare 4 o 5 persone poi di più non possono li devono trasbordare sui carabinieri c'è una ragazza che sembra morta però uno di loro vede che muove una mano riescono a chi appalla erano quasi tutti eritrei Simone è uno che ha un affitto attrezzatura sub fa il sub per i tuoi quella mattina anche lui sta uscendo con dei clienti per un'immersione incrocia queste barche gli dicono vai a vedere là lui parte e devo dire che quando me lo raccontava ancora piangeva perché lui si mette l'attrezzatura scende gli dicono vai a vedere sotto la barca era a due passi dalla riva quindi non e lui vede che c'è il portellone del bocca apre e dentro la barca ha trovato quasi 300 e ha dovuto uno per uno portare su entrare portare su i cadavri di gente mi diceva con le mani spellate perché probabilmente hanno tentato e raccontava di bambini infatti era un racconto tremendo e lì devo dire tutti i lampedusani chi aveva una barca o qualcosa sono usciti a cercare di salvare ed è curioso poi questa cosa l'altro ottobre perché hanno immaginatevi anche proprio da un punto di vista oltre alla tragedia umana ma anche da un punto di vista pratico 300 cadavri dove li metti col caldo che fa li hanno allineati all'aeroporto dentro dei lacchi poi hanno fatto era stato un disastro poi ecco lì c'è stata una polemica perché il ministro all'interno voleva venire dargli la cittadinanza i lampedusani ne hanno detto di tutti tra l'altro era un loro conterraneo Alfano quindi e quello che erano quasi tutti eritrei quel periodo in cui scapparono sapete che in eritrea sono poi tutti giovani perché c'è questa legge per cui tu dai 18 anni che sia maschio o femmina entri al servizio militare e non sai quando finirà potrebbe non finire mai quindi io ho detto mettiamoci nei loro panni chi se avesse quell'età lì non scapperebbe fare il militare a vita e molti di questi ragazzi sono andati su Norvegia e Svezia dove ci sono le più grosse comunità di eritrei quindi avevano già dei contatti molti il 3 ottobre tornano tornano perché da un lato per ringraziare chi li ha salvati e anche per commemorare amici parenti che hanno perso nel naufragio perché molti hanno fratelli parenti cugini e mi dicevano che adesso gli ultimi anni è stato finalmente bello perché i primi anni arrivavano tutte le tv e diventava di nuovo la Kermes mediatica negli ultimi anni ovviamente la tv se ne dimentica è diventata di nuovo un po' un ritrovo tra chi ha aiutato questi ragazzi questa ragazza che sembrava morta una addirittura è stata salvata dal dottore mentre era già dentro il sacco il medico alla fine ha detto ma forse questa ed era ancora viva immaginiamo ci sono di storie così poi tutti ne raccontano poi hanno avuto adesso ha avuto un bambino e l'ha chiamato Costantino e questa è una cosa carina e il 3 ottobre è rimasto proprio uno spartiacque tutti 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 si ricordano del del 3 ottobre poi ci sono stati altri incidenti ma questo soprattutto perché è successo così vicino cioè lì c'è un altro problema che la maggior parte delle persone che arriva non è gente di mare perché 500 metri 600 dalla riva a nuoto ci arrivavi se saperi nuotare pian piano o almeno stavi a galla in attesa e invece la maggior parte non sanno nuotare quindi quella è stata è una data che ha segnato profondamente l'isola basta dire 3 ottobre Lampedusa e tutti l'entrato è stato anche bello perché qualche giorno dopo hanno fatto una specie di commemorazione e processione cittadini il sindaco il paro il corte avevano deciso di andare nel centro tutti avevano in mano un fiore giallo nel centro non li hanno fatti entrare dove c'erano quelli salvati e queste cose e hanno messo sulle reti metalliche tutti questi fiori gialli è una piccola cosa però secondo me è stato un bel segno ecco di di non far sentire stranieri anche quelli che sono morti lì ecco di accoglierli e questo credo che sia un segno di civiltà non da poco da cui forse dovremmo imparare qualcosa infatti dice Don Mimmo a un certo punto dice che il brand Lampedusa dovrebbe essere utilizzato per produrre una nuova idea di accoglienza e dice Paola perché essere razzisti a Lampedusa è più difficile che altrove sì volevo capire è molto interessante secondo me questo ruolo che ha la cultura in questo momento Lampedusa penso che sia molto interessante anche per noi provare a fare cultura a far fare un ragionamento dicono i volontari che ha intervistato perché in realtà non c'è una riflessione non c'è una riflessione su di sé ecco diciamo c'è in corso però questi eventi tragici hanno reso obbligatoria stanno rendendo obbligatoria questa riflessione sì come sempre quando si dice l'identità l'identità telecraì nascono in relazione a un altro e in base a qualcos'altro lo diceva stamattina anche Laura e qui è proprio questo caso forse i Lampedusani non avevano mai riflettuto molto ma è un po' quello che dicevo prima ecco o arriva l'antropologo o arriva la tragedia o sono tragedie tutte e due ma una è peggiore ma uno abitualmente non riflette su se stesso se non è indotto a farlo da qualche evento ecco questo ruolo questa condizione in cui l'isola e i suoi abitanti si sono trovati li ha costretti cioè all'inizio come appunto diceva Mimo la gente non riflette tanto sul problema dell'immigrazione però si butta devo dire che sul molo una sera uno mi ha detto guardi se fosse qui Salvini poi si è fermato e ha detto lui no ma uno dei suoi si butterebbe anche lui quindi cioè se c'erano dei limiti a tutto ma è vero questo ruolo di diciamo di quasi empatico però per esempio ecco proprio Costantino quello che ha salvato questa ragazza mi ha detto io giuro non sapevo niente dopo questo sono arrivato a casa con le figlie mi sono messo sul computer a vedere dove era l'eritria a studiare cos'ha perché scappano le cause ho cominciato ho chiesto a questi ragazzi dove era la loro villa cioè ecco di lì lui ha maturato una consapevolezza che non aveva adesso lui va lo chiamano in tutta Italia nelle scuole a portare la sua testimonianza però adesso è una testimonianza che si è arricchita cioè lui ha riflettuto sul perché questa gente scappa ed è questo che nessuno fa mai noi italiani abbiamo poi la memoria corta ci siamo dimenticati di quando toccava a noi e la tragedia del Sirio per dire che è altro che il 3 ottobre di Navi guardate la tragedia di Marsinelli in Belgio nel 56 dove sono morti italiani anche perché a scuola non ce lo fanno quasi mai studiare che se forse avessimo un po' fatto i conti con questo ci ritroveremmo un po' più in questa in questa immagine e e invece ecco adesso un po' perché forzati dagli eventi un po' anche grazie agli interventi per esempio c'è questo progetto delle chiese valdesi che si chiama Mediterranean Hope che sta facendo un lavoro bellissimo interessante oltre che di aiuto ai migranti ma anche di lavoro insieme devo dire il parroco sia Don Mimmo prima e Don Carmelo adesso stanno facendo un lavoro culturale incredibile anche in chiesa partendo anche lui giustamente Don Carmelo mi diceva dal basso facciamo la pizza tutti insieme poi la maravola poi andiamo a vedere un film tutti però cercare anche di unire gli stranieri con gli italiani la biblioteca appunto dicevo loro prima stanno facendo un lavoro con i bambini chiamando ci sono anche delle mamme straniere anche a fare delle ricette e con le mamme siciliane allora scambiare cioè sulle cose facili dove però cominci a capire anche scuola lavorano molto sui libri con i bambini sugli spazi ecco tanto capire che Lampedusa è nel mondo il mondo è a Lampedusa come a Brugherio ma e anche Lampedusa e Brugherio sono nel mondo ed è un mondo particolare quello è vero per esempio non so quanti di voi hanno visto il film di Rosi fuoco a mare ecco ai Lampedusani non è piaciuto perché dà un'immagine un po' a retorica al bambino con la fionda ora non è che i bambini Lampedusa usano la fionda c'è un ipad come tutti gli altri non è così ecco è un po' un'immagine bucolica che infatti Lampedusa non è piaciuto molto quel film lì per questa parte e quindi voglio dire c'è sicuramente ecco un lavoro di diciamo presa di coscienza soprattutto cercare di capire e questa è la cosa forse più interessante che è quello che invece manca in tutti i dibattiti a tutti i livelli nazionale o sovranazionale e che nessuno ragiona sulle cause tutti continuano a trovare metodi per fermare arginare cosa peraltro impossibile ridico adesso che avevano chiuso la rotta qui si è aperta quella balcanica adesso quella delle Alpi è la nuova frontiera e chissà cosa succede a ciò basterebbe studiare la storia per capire che la storia dell'umanità è fatta di migrazioni nessuno è mai stato fermo al suo posto quindi quando verrà studiata fra 200 anni questo periodo sarà una cosa normale c'è sempre stata questa cosa prima noi andare fuori e che appunto a volte prevale in alcuni casi più l'empatia che la riflessione racconto è un aneddoto che non c'entra proprio con l'ampedusa ma si lega per far più l'atteggiamento ma questo è un aneddoto che mi ha tornato in mente la memoria anni fa scrivendo un'altra cosa quando avevo 17 anni insomma gli anni 70 io abitavo in un paese della cintura di Torino e sotto casa incontro un signore un pensionato che aveva comprato un portacenere e in dialetto piantese mi ha detto l'ho comprato da un marocchino però era una brava persona no? ora per marocchino intendeva ricordate quelli che giravano quei tappeti a spada che non so se fossero poi davvero marocchino ma marocchini poi non so se anche qui avrebbero ma Torino marocchini e dalla riva stud del po a città del capo è una categoria molto estesa cioè marocchino vale per tutti e comunque questo signore era pensato lì al circolo dove giocava carta boccia non so con i suoi coetanei arriva il marocchino si siedono lui contatta sto portacenere gli offre un caffè e poi mi raccontava questo signore sempre in Piemontese lui mi diceva che qui è dura stare da soli senza la famiglia con tutti che ti guardano male io che sono stato sei anni in Belgio me lo ricordavo anche per me ero dura da solo allora cos'era successo una cosa curiosa in quel mezz'ora io non so quanto tempo si sa che lui inconsciamente aveva estratto quella persona che era vicino lui dalla categoria marocchini che per lui non erano brave persone e si era rapportato da persona a persona scoprendo di condividere un'esperienza profonda anche drammatica come quella dell'essere costretti a migrare e quanti italiani lo sono stati e alla fine lui senza saperlo aveva più in comune col marocchino che con quelli con cui giocava a carte un attimo prima cosa buffa che io ho rivisto questa scena molto più nel film Gran Torino di Clint Eastwood chi l'ha visto non ricorda lui che fa il bieco conservatore che odia gli asiatici a un certo punto quando è a casa di sta famiglia dice ho più in comune con loro che con i miei figli ecco di scoprire che l'altro poi in fondo non è non è così altro e però è quell'operazione che non viene fatta di scoprire che poi si ci sono delle differenze ma ci sono anche tanti punti in comune c'è un tema che serpeggia nel libro che secondo me ci fa prendere posizione in modo alternato nel libro a seconda delle storie che si raccontano ed è se i diritti siano una concessione o siano consustanziali alle persone a me è capitato di di essere indotta a schierarmi non so su questo tema il diritto è una cosa che dobbiamo riconoscere a tutti cioè nel senso sono consustanziali o vanno riconosciuti appunto concessi e questo è un tema grosso che è legato al tema della cittadinanza della nazionalità sembra forse l'ho anche riportato nel libro non so io ricordo Joseph Demetre era un diplomatico sabaudo del 1700 il quale in una lettera ha un qualche altro ambasciatore scrive io ho conosciuto olandesi tedeschi italiani francesi ho letto scoperto da Montesquieu che si può anche essere persiani ma non ho mai conosciuto un uomo allora è una lettera cinica ma molto realistica quando noi parliamo di diritti dell'uomo dichiarazione dei diritti dell'uomo è una bellissima cosa chi non è d'accordo su questo però di fatto è una bella è un bel pensiero una bella ipotesi ma guardiamo veramente noi oggi abbiamo dei diritti se siamo cittadini o non abbiamo dei diritti se siamo cittadini di uno stato che ce li nega ma se non hai un passaporto tu non hai diritti e questa è la riflessione oggi quando si sente parlare pensiamo a tutto il dibattito c'è stato sullo iussoli è basato su questo come vogliamo concepire un individuo ha diritti perché è un individuo o ha diritti perché è un cittadino oggi come oggi ha diritti perché è un cittadino ma e io su questo sono d'accordo se i diritti sono umani perché il diritto non è una cosa naturale anche qui si sente parlare di diritto naturale in natura non c'è diritto la gazzella non ha nessun diritto di non essere mangiata da leone può solo sperare di scappare prima i diritti li creiamo noi dobbiamo però decidere non sono a somma zero perché questo è quello che viene prospettato se io estendo i diritti ad altri non li perdo non è che li perdo io li posso dare ad altri allora esiste un diritto a sopravvivere e se esiste un diritto a sopravvivere devo cercare un posto dove poter sopravvivere allora qui è un dibattito che va tra il giuridico e il filosofico però riflettere se il diritto è una cosa che è legata all'adesione a un concetto di nazionalità quella che con quello che è la biopolitica cioè oppure il diritto è dentro in quanto essere umano perché se è in quanto essere umano allora come diceva Kant nessuno al mondo ha diritto di stare in un posto piuttosto che in un altro ma più diritto ognuno sta dove può stare dove vorrebbe stare pensiamo solo al fatto che in Italia si era stato inserito poi bocciato dall'Unione Europea una aberrazione giuridica come reato di clandestinità perché è un'aberrazione giuridica questo l'ho preso ho chiesto proprio a avvocati magistrati perché una legge ti deve punire per ciò che fai ma se ti punisce per ciò che sei è una legge razziale siamo ricaduti sono giusti i 70 anni quindi le leggi razziali l'apartheid ma se no una legge ti punisce ma se tu sei clandestino cosa hai fatto non hai fatto nessun reato oppure tu hai creato il clandestino e poi intanto è che questa legge è stata poi bocciata dall'Unione Europea anche se poi di fatto è stata applicata da altre nazioni come la Francia senza averla formalizzata quando è espulso tutti i Rom però questo è il grande tema se i diritti sono della persona o se i diritti sono del cittadino e infatti la scelta anche già la scelta che non è non risolve il problema ma tra ius solis e ius sanguinis è già una differente concezione dell'assegnazione del diritto anche se è sempre legata a un territorio così però è più realistica mentre invece quella ius sanguinis si rifà un concetto di stirpe di cose che quando dico sempre che nella rivoluzione francese non hanno finito il lavoro ecco dovevano andare più pesanti su questo sì una domanda poi pensiamo se c'è qualche altra domanda poi chiudiamo non riguarda direttamente questo libro ma forse tanti anni di tue riflessioni proprio che pensi tanto a questa cosa hai detto prima sono 70 anni dalle leggi razziali o razziste come si forse risolvere per lo chiamare e siamo ancora qua cioè siamo ancora qua in altre forme però alle prese con un razzismo che esiste come è possibile cioè come qual è la risposta che tu ti dai quando appunto quando uno vede un'altra persona dice due gambe e due braccia più o meno un essere umano eppure invece succede a un certo punto ancora oggi dopo così tanti anni di civiltà umana dopo tutti gli studi tutte tutto quello che sappiamo e vediamo abbiamo vissuto siamo ancora alle prese con questa questione perché ho spento scusa è difficile perché cioè parlavamo anche un po' prima proprio con Guido Barbugliani che è stato qui non molto tempo fa sono anni che in coppia con due punti di vista diversi cerchiamo di diciamo in qualche modo di far riflettere sulla questione naziale perché essendo tra l'altro coetane io e Guido quindi c'eravamo anche un po' detti che la nostra generazione siamo tutti due al 56 si era un po' illusa che dopo la tragedia della Shoah il razzismo fosse una di quelle cose da studiare se negli archivi polverosi della storia c'è stato e vabbè lo studiamo ma come un fenomeno esatto è quello ecco forse perché siamo cresciuti negli anni 60 e 70 delle utopie pacifiste e ci siamo un po' illusi di questo e invece l'aveva capito con tragica lucidità Primo Levi quando alla fine di un capitolo degli sommersi salvati scrive questa frase terribile con quel stile asciutto che era lui è accaduto potrebbe accadere di nuovo e quella frase lì c'è tutto e infatti sono bastati pochi decenni e noi ci ritroviamo di nuovo a fare i conti con espressioni come Casa Pound Forza Nuova qui ma in tutta Europa vuol dire in Austria vince un po' ti desti in Ungheria lasciam perdere persino in paesi come l'Olanda o la Norvegia di grande tradizione democratica stanno riemergendo la Le Pen in Francia e da altre parti e quindi ci deve far riflettere sul fatto che questo peraltro è un razzismo diverso non meno pericoloso perché ovviamente oggi avendo la scienza comunque in qualche modo dimostrato che non esistono sostanziali differenze non è non è più un razzismo scientifico quello che aveva almeno tentato di fare i tedeschi non riuscendoci però tentavano di legittimare scientificamente una differenza genetica anzi non si diceva neanche genetica ma biologica tra gruppi umani e in più che la biologia determinasse la cultura questi erano i due tratti tipici del razzismo l'umanità è divisa in gruppi biologici e questa biologia determina la cosa oggi la genetica ci ha dimostrato che non esistono gruppi umani perché su 100 ipotetici geni di tutta l'umanità 81 li abbiamo in comune tutti se nessuno l'ha visto vi consiglio di andare su youtube c'è un video di un quarto d'ora DNA Journey il viaggio del DNA non so se avete visto è bellissimo divertente dove viene chiesta una serie di ragazzi di tutto il mondo di dove sono originari uno dice il 100% irlandese poi si scopre il carassangue pigmeo una ha quella la ragazza kurda a cui viene chiesto qual è il tuo nemico chi odi di più i turchi poi si scopre che è turca e alla fine tutti il cubano è di origine tedesca quindi è curioso che il DNA non fa altro che testimoniare quel discorso del movimento che ci è sempre stato ci siamo sempre incrociati ci siamo scambiati idee e spermatozoi quindi non so quali più dannosi ma c'è sempre stato questo incrocio oggi è un razzismo che viene da un lato appunto alimentato da una politica che individua tutti i mali appunto nello stradio stamattina guardate ancora sentito mentre c'è un pezzo toll show sulla sette credo e c'erano alcuni esponenti che continuano a dire sì che qui in Italia manca il lavoro perché ci sono gli stranieri tranne poi un altro che diceva noi stiamo cercando dei pizzaioli ma non li troviamo però ecco che viene associato la mancanza di lavoro la crisi economica che in realtà è dovuta più a un'economia di finanza selvaggia che non certo le migrazioni il terrorismo si continua a dire che arrivano con i barconi che continua a dire ma con i miliardi che ha l'Isis secondo te uno viene a rischiare la vita sui barconi arriva con un aero in business con un visto regolare se vuole fare peraltro poi abbiamo visto che tutti gli attentati in Europa hanno fatto la gente nata qua quindi non è arrivata da fuori però ecco c'è tutta una politica della paura una speculazione che alimenta e dall'altro io credo che sia anche legato da un lato un'irresponsabilità totale di alcuni gruppi politici però dall'altro anche a un senso di crisi che tutta l'Europa sicuro percepisce con quel cambiamento quello che Bauman ha chiamato la liquidità la società liquida si sono perse tutta una serie di sicurezze e di certezze lo stato sociale in cui siamo vissuti per un 30 anni diciamo dai 60 ai 90 c'è stata se voi andate a vedere tutti gli indici economici è stato i tre decenni 60-70 più di tutti dove c'era la maggiore ridistribuzione del reddito c'era l'ascensore sociale poteva funzionava e quindi si è un po' vissuta quella che potremmo chiamare la democrazia e questo ha creato una serie anche di possibilità di senso il venire meno progressivo di questo perché c'è stata la decentralizzazione del lavoro soprattutto oggi l'economia non è più basata sul lavoro ma è basata sul capitale scoperto che tutti stanno rivalutando Marx in questo periodo tutti dicono aveva e quindi è un'economia che è finanziaria con questi alti e bassi quindi non c'è più di cui il cittadino ha perso totalmente il controllo una volta era la politica che determinava l'economia il modello economico adesso è l'economia che determina la politica basta vedere cioè gli stessi governi in Europa fanno quello che dice la BCE con un margine scarsissimo di manovra e questa economia ha visto che cosa una sempre progressiva concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi e un impoverimento nelle mani di tanti basta vedere le piramidi oggi dell'economia una volta era una piramide adesso è la clessidra con un ceto basso povero un ceto medio molto piccolo e poi si riallarga in un ceto di gente molto ricca quindi questa percezione della crisi mancanza di lavoro di queste cose ecco che qual è il nemico il nemico è lo straniero e guardate che è lo stesso processo che Hitler aveva innescato in una Germania in crisi dopo la guerra la Repubblica di Weimar chi è il nemico è l'ebreo funziona sempre individuare il nemico nella categoria parolta più debole e allora si scatena questo razzismo che come dicevamo prima è in Italia assunto anche delle forme non dico parossistiche perché il tema è il serio però in passato il razzismo si basava sulla presunzione di superiorità pensiamo ancora i suprematisti americani noi bianchi siamo meglio quelli sono neri oggi in Italia non so come dire è quasi un razzismo piagnone ecco a loro gli danno la casa gli danno 35 euro cioè noi siamo le vittime ecco è un razzismo vittimista il nostro di quello che viene espresso non è più un razzismo suprematista quindi io penso anche che bisognerà trovare delle parole nuove perché razzismo la usiamo perché non abbiamo altro non si pensa neanche più alla razza oggi è quasi è più un razzismo identitario un razzismo culturale e molto spesso è un razzismo proprio di pancia cioè gli immigrati mettendo assieme chiunque o quando diciamo gli extracomunitari in cui bisognerebbe includere gli svizzeri peraltro però gli statunitensi i canadesi e tanti altri e gli inglesi anche loro adesso ci mettiamo quindi quasi sì è proprio una cosa molto seria insomma che a volte prende dei così dei contorni comici ricordo non so chi l'ha detto migrante solo un gerundio Salvini per cui oltre tutto è un participio poi ci si ride sopra ma sono risate molto amare perché poi sono risate che fanno morti insomma sì no chiaro che poi a volte vabbè assume dei toni così più perché forse se devo dire adesso qui vuoi entrare in discorsi polemici però quello che colpisce più non è l'idea o l'ideologia delle classi politiche ma non parlo a livello italiano parlo proprio a livello tranne qualche eccezione ma è l'assoluta insipienza cioè l'incapacità totale di capire dei problemi di prevedere di ragionare su questi temi tutti continuano ripeto come fermare qui bisogna ragionare sulle cause ci chiediamo perché dall'Africa adesso così tanta gente scappa cos'è successo in Africa allora forse ce lo dovremmo chiedere il problema è quanta informazione noi abbiamo perché vabbè sui siriani è evidente scappi da una guerra quello è facile ma perché appunto dall'Eritrea si scappa quanti lo sanno quanti sanno che 14 paesi africani francofoni hanno una moneta unica che si chiama Franco se fa il cui valore è determinato da Parigi io vi posso dire che a febbraio del 93 ero giù in Benin venerdì alle 6 dopo che le banche erano chiuse arriva la notizia della televisione che il Franco se fa è svalutato del 50% l'ha deciso Parigi tutti milioni di africani si sono trovati con metà soldi in tasca perché a Parigi andava bene così e chi è che stava tentando di creare una moneta panafricana Gheddafi e guarda caso i francesi intervengono in Libia perché stavano rischiando di perdere questa sovranità quanti quanti conoscono che trattato le convenzioni di Lomè se noi compriamo Europa materie prime dall'Africa non paghiamo dazio se paghiamo semilavorati paghiamo e questo impedisce la nascita di qualunque forma di manifattureria in Africa se non riflettiamo su come Wallace O'Inca grande scrittore nigeriano premio Nobel per la letteratura in questo suo bellissimo libro intitolato Africa dice l'Africa è importante sempre per le ragioni sbagliate è vero pensiamo adesso la nuova guerra la nuova frontiera sarà il cobalto in Congo perché il Coltan già ci affacciano le guerre da anni adesso c'è il cobalto che serve per i nuovi processori e di nuovo saranno guerre saranno morti in Congo per il Coltan sono stati già 12 milioni di morti quante volte l'abbiamo sentito dire alle nostre medie allora se noi non riflettiamo su questo che in molti paesi africani si sta molto peggio di 50 anni fa con gli aiuti si sta molto peggio perché si è creato un divario che prima non c'era e prima lo dicevo a forza con Anna che molti anni fa proprio in Congo allora si chiamava ancora Zaire poi era chiamato di nuovo c'era Congo poi diventato Zaire poi diventato Repubblica dopo tutta una sera trascorsa a discutere con un signore in gamma che ci ha raccontato un sacco di cose a bere birre certo punto ha detto ma secondo voi quando finisce l'indipendenza e sembrava quasi una battuta però lui diceva quando c'erano i belgi funzionava tutto ora sembra brutto dirlo ma in molti paesi è peggiorata la situazione rispetto all'epoca coloniale allora forse bisognerebbe interrogarsi su 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 queste cose in Africa la maggior parte dei paesi governano strane qualche eccezione da dittature o dittature camuffate che fanno comodo le multinazionali di tutto il mondo per farci affare e allora noi continuiamo a sfruttare in questo modo l'Africa e poi ci stupiamo che la gente scappa senza contare anche il condizionamento culturale questo ve lo posso dire per esperienza diretta io vi parlo dei paesi francofoni perché sono quelli che conosco meglio però vi posso dire che in paesi come il Benin come il Mali quasi in metà del palinsesto televisivo viene dalla Francia Antenne 2 francese cioè Canale 2 francese allora voi immaginatevi siete in un paese come il Benin reddito annuale 450-500 dollari annuale di un individuo voi siccome arriva il programma che hanno gli stessi format dei nostri programmi arriva il programma con i quiz i pacchi bene dove uno risponde a 4 domande 5 e guadagna 30.000 40.000 50.000 euro allora voi che idea vi fate di quel posto che di soldi lì ce n'è ma ce n'è proprio tanti se questo in mezz'ora guadagna 30.000 euro io 500 l'anno ditemi un po' non provereste andare in quel posto lì allora su questo bisogna anche riflettere perché c'è questo e i giovani africani hanno in genere due reazioni o cadono spesso in una depressione totale del tipo noi non ce la faremo mai io ricordo una ragazza studentessa di giurisprudenza a Ouagadougou in Burkina è passato un pomeriggio bravissima in gamba e lei continuava a dire voi siete più bravi voi riuscite in tutto io cerca di dire guarda che le università sono piene di studenti africani che sono bravissimi niente lei era caduta in un razzismo al contrario che noi non ce la faremo mai oppure ci provo a tutti i costi perché se là ci sono tutti questi soldi qualcuno arriverà anche a me vagli a spiegare che non è così però però questo influenza molto anche queste dinamiche sono tante motivazioni e anche molto diverse da paese a paese però io non sento mai nei dibattiti riflettere ma non parlo dell'Italia ma anche a livello europeo cioè non vedo figure con uno spessore culturale capaci di fare una riflessione cioè il senatore Marshall viene in Europa dopo la guerra e dice signore se qui non li aiutiamo questi ricadono nelle mani di Hitler aiutiamo ecco ci vorrebbe uno illuminato bene ringraziamo Marco Aime facciamo un applauso per la disponibilità e anche la passione perché ha fatto veramente di tutto per essere qua stasera nonostante una serie di imprevisti anche di situazioni non belle ma lui ha voluto esserci a tutti i costi quindi è stato veramente un ospite gradito io chiudo rubandogli una frase perché lui non l'ha citata non l'ha piaciuta così tanto perché a volte lui esce con frasi che ti restano in testa lui dice si fa un tanto parlare di radici di radici identitarie ma è semplice guardate in fondo alle vostre gambe non avete radici avete piedi e quei piedi si va in giro grazie me l'ha rubata me l'ha rubata giovanotti quella frase vedo le nostre colleghe al lavoro quindi penso che ci vogliono offrire una macedonia finale giusto? no buonissima imperdibile in effetti era solo abbondante ma era buonissima il prossimo appuntamento è per sabato invece all'interno del festival dei popoli delle culture sabato alle 3 siamo di nuovo qui per un pomeriggio insieme anche con la comunità dei richiedenti asilo per un pomeriggio molto articolato il cui programma vedete nel foglietto grazie